buongiorno a tutti ragazzuoli benvenuti in questo nuovo velocissimo video sono qui per darvi un paio di novità molto molto interessanti la prima state già vedendo ragazzuoli è apparso il timer sopra l'agenzia quindi preparatevi perché martedì ce lo vediamo assieme in live scusate lunedì sera al lunedì 15 alle 20 ce lo vediamo insieme in live su twitch ragazzi ma le novità non finiscono qui perché adesso ve la faccio vedere la novità più succulenta forse la intravedete già guardate non fa più la luce che faceva prima non fa più le bolle ragazzi i portelloni sono aperti ragazzi chissà cosa è uscito chissà cosa nascondevano perché si sono aperti questo non lo so che da voi anzi scrivetelo nei commenti secondo voi perché si sono aperti e che cosa esce che cosa è uscito oppure che cosa è entrato chi lo sa secondo me è uscito qualcosa comunque sono tutti aperti ve li faccio vedere andiamo a vedere un altro assieme e nel frattempo vi ricordo che potete utilizzare il mio codice creator per supportarmi nello shop di fort vedete anche questo sono tutti aperti tutti l'agenzia adesso fa un bel bagliore luccicante che arriva fino in cielo e il timer è partito ormai due giorni però qui ha smesso si è aperto chissà perché ragazzi io vi invito a condividere con tutti questa fantastica notizia che crea sempre più hype sempre più curiosità vi aspetto in live su twitch anche per i regali dello shop oltre che per l'evento di lunedì e mi raccomando il codice codice creato di uk97 per supportarmi un bel like e iscrivetevi al canale ciao ciao ciao